Buonasera a tutti i nostri telespettatori, ben trovati per una nuova edizione del telegiornale. In apertura una notizia di cronaca, non potranno accedere ai locali del centro storico nelle ore pomeridiane e serali per un intero anno. I 12 giovani tra i 17 e i 23 anni condannati per aver compiuto nei mesi passati reati contro persone o contro il patrimonio nelle zone del centro di Pistoia. E questo è il provvedimento emesso dal questore di Pistoia Olimpia Abate nell'ambito delle operazioni di contrasto alla cosiddetta mala movida. La violazione di questi provvedimenti è punita, sarebbe punita, verrebbe punita con la reclusione da 6 mesi a 2 anni e la multa da 8 mila a 20 mila Euro. I titoli delle principali notizie di questa sera. Oltre 400 persone hanno partecipato ieri nel Montalbano all'iniziativa per la pace a favore dell'Ucraina. Stasera in Piazza Duomo a Pistoia un'altra manifestazione. C'è stata anche una raccolta alla Giorgetesi Gruppo assolto perché il fatto non sussiste. Il Tribunale di Pistoia ha scagionato completamente l'ex sindaco di Pistoia Bertinelli dalle accuse di abuso d'ufficio e induzione in debita. Scagionati anche gli altri imputati. Allarme sul futuro della scuola di Catena di Agliana ha chiuso da più di un anno. L'Istituto rischia di non riaprire più. Dai gruppi PD e Agliana insieme la richiesta all'amministrazione di conservare la destinazione pubblica dell'immobile. Riecco la giostra dell'orso. L'annuncio è stato dato questa mattina a Palazzo Di Giano dopo due anni di assenza a causa della pandemia. Quindi il palio di Pistoia tornerà ad illuminare Piazza Duomo nella notte del 25 luglio. Domani sera a Palacarraro le 20.30 torna in campo la Giorgetesi Gruppo. La formazione di coach Brienza affronterà Biella nel recupero della ventunesima giornata. Su TVL la diretta del dopogara e la differita del match. Purtroppo l'avrete anche capito. Ci sono un po' di problemi con i nostri computer. non vedrete le scritte in sovraimpressione ai titoli. Qualche piccolo disagio anche per noi. Pazienza. Sicuramente rimederemo nelle prossime edizioni. Subito in Piazza Duomo dove c'è il nostro Francesco Rossano per la manifestazione per la pace e contro la guerra che si è svolta stasera. Maurizio buonasera. A te e i nostri telespettatori da poco si è conclusa la manifestazione che ha visto i riuniti pressoché quasi tutti i sindaci della provincia di Pistoia. Comunque una rappresentanza di tutte le realtà del nostro territorio per lanciare un messaggio di pace e contro la guerra. Le amministrazioni si sono mosse. Tante iniziative, l'abbiamo detto, nel nostro territorio, a cui il mio franco, il sindaco di Pistoia, Alessandro Tomasi, a cui faccio subito una primissima domanda. Lo vedremo anche nel nostro telegiornale, nelle prossime edizioni. Tanta la mobilitazione, il grande cuore della gente pistoiese si è mossa alla richiesta di aiuto della gente dell'Ucraina. Sì, sono rimasto felicemente stupito, ma non più di tanto perché la popolazione pistoiese ha sempre reagito così nei momenti difficili. Pensiamo ai profughi afghani, all'arrivo non più di tardi di qualche mese fa dall'Afghanistan con il ritiro delle truppe americane. In queste ore ho cercato di coordinare per il mio comune e così gli altri sindaci queste iniziative spontanee perché di fronte a famiglie che hanno lanciato un appello e si sono trovate la casa, il giardino in vasa di indumenti, medicine, cibo. Abbiamo cercato di dare una mano con i cantieri comunali, con la ditta Sedoni che ci ha prestato gentilmente un furgone per portare questa roba e stoccarla dove potesse essere ordinata e messa sui tiri, in questo caso nei capannoni della Giorgio Tesi, per iniziare a partire per l'Ucraina. Quindi cerchiamo di disciplinare quello che sta accadendo in modo spontaneo con grande generosità. La manifestazione di stasera, una fiaccolata alla luce delle candele, i sindaci hanno mandato il loro messaggio, ma è stata anche un'occasione non ufficiale, non formale per un confronto, per capire come coordinare, perché la generosità sui territori è davvero stata tanta in provincia di Pistoia, c'è però, come ha detto appunto il sindaco, la necessità di coordinare tutti questi aiuti perché le forze vadano nella direzione giusta. Cosa farete nelle prossime ore proprio su questo fronte, pensando anche all'eventuale accoglienza di profughi che potrebbero arrivare? Sì, allora, intanto abbiamo parlato con il prefetto che in queste ore è impegnato in alcune riunioni, attende diciamo le decisioni del governo, se per esempio si replica il modello dell'accoglienza per gli afghani, ad esempio con gli alberghi o in altre strutture, quello sarà la cosa più importante quando l'emergenza dovesse aumentare nei numeri. Dopodiché anche tra di noi è nata l'esigenza appunto di coordinare queste iniziative spontanee che nascono sul territorio, perché vorrei ricordare per esempio che i primi tir che sono partiti sono volontari, camionisti che con le loro forze, con le loro risorse affrontano il viaggio per arrivare fino ai confini della Polonia, quindi dovremmo aiutare anche loro per rifornire di carburante i camion, per organizzarli, quindi sono molte le cose e quindi occorre appunto un'organizzazione fra sindaci, fra protezione civile in attesa delle decisioni del governo. Maurizio, proprio su questo fronte io vi lascerei ad un servizio che abbiamo realizzato oggi, abbiamo incontrato un profugo arrivato dall'Ucraina, si chiama Stanislao, è arrivato con la sua famiglia da Kharkiv, una città a destra di Kiev che è stata duramente colpita proprio nelle ultime ore, lui ha vaggiato per oltre 30 ore nella giornata di ieri, scusate, per arrivare fino a Pistoia, abbiamo raccolto la sua testimonianza, quindi vi lascerei a questo servizio. La sua città bombardata, Kharkiv a destra di Kiev, fuggito dall'Ucraina portando in salvo dalla guerra, la sua famiglia è arrivato a Pistoia questa notte, qui conosce alcuni connazionali, Stanislao lavora infatti nel settore vivaistico, l'abbiamo incontrato alla Giorgio Tesi Gruppo dove è al lavoro con altri per preparare pacchi con i prodotti donati dalla gente pistoiese per aiutare i profughi e sfollati. Cerco di non pensare, di fare qualcosa per non pensare perché veramente per me è come un sogno, io non posso credere che stanno succedendo queste cose ora a casa mia. Sono felice della generosità della gente, ci dice, sentiamo che non siamo soli, la possibilità della guerra è nell'aria, ma Stanislao ci ha confidato di essere stato sorpreso dall'arrivo del conflitto. Sono titolare di un'azienda, ci sono dipendenti e io fino all'ultimo momento dicevo a tutti i miei dipendenti, amici, parenti che questo non è vero, la guerra non può succedere, è veramente successo, noi siamo scappati con bambini, con tutti, però a noi veramente ora la nostra anima è piangere. Tornerai, vuoi tornare in un carino? Velocemente o restare? Certamente tornerò a casa mia, prima possibilità che avrò di sicurezza, di pazienza, di pazienza, possibilità di tornare, sicuramente tornerò al primo giorno, però noi rifaremo, rifacciamo, ripostruiamo tutto. Pistoia, la macchina della solidarietà, come avete sentito, si è mossa subito e come? In uno dei grandi capannoni della Giorgio Tesi Group, a Badia Pacciana, le piante hanno lasciato il posto a centinaia di scatoloni. All'interno capi d'abbigliamento, coperte, generi di prima necessità medicinali, anche giocattoli per i più piccoli, destinati alla gente dell'Ucraina. La raccolta, partita dall'iniziativa di un dipendente dell'azienda vivaistica, originario proprio del paese dell'Europa dell'Est, attraverso la rete dà un'idea e divenuto un vero e proprio fiume in piena, grazie alla generosità dei pistoiesi. Alla Giorgio Tesi Group è praticamente un flusso continuo di persone che portano aiuti. Grazie, grazie veramente, siamo veramente sorpresi da tutto questo volume, da tutta questa gente che stanno venendo, veramente grazie, grazie al territorio, grazie a azienda, grazie alla Giorgio Tesi Group che hanno dato possibilità di fare tutto questo, perché ora stanno raccogliendo in tutta l'Italia, lo so, la merce, ma ci hanno pochissime possibilità di raccogliere, di separare, di caricare, di tutto questo. Ad attendere gli scatoloni fuori dal capannone, due camion sarebbero dovuti ripartire per l'Ucraina carichi di piante, ma sono stati svuotati dopo l'annullamento degli ordini per lo scoppio della guerra. A breve si rimetteranno in moto, questa volta carichi di aiuti. Sono già altri camion in arrivo, perciò la catena è partita, noi abbiamo messo a disposizione le strutture su iniziativa appunto dei ragazzi nostri che lavorano con noi, è il minimo che possiamo fare per questa situazione totalmente inaspettata, un disastro assoluto. I prodotti arrivano, vengono divisi, smestati, etichettati, sopra ogni scatola iscritto che cosa contiene questo materiale, come arriverà ai profughi, a chi ha bisogno in Ucraina in questo momento? Come arriverà ancora non è stato definito, perché vogliamo avere la certezza che arrivi prima possibile nella destinazione giusta, che non faccia percorsi dove rimane magari fuori da percorsi umanitari e tutt'altro. Stiamo valutando col consolato, con l'ambasciata, con le associazioni umanitarie qual è la strada più veloce e più sicura per poter far partire il camion. Manifestazioni in strada, in piazza, ieri sera nel Montalbano. Due comuni, Larciano e Lamporecchio, insieme per dire no alla guerra. Due cortei, partiti distinti, divisi dalle rispettive piazze che si sono incontrate e uniti per formare un'unica marea umana. Oltre 400 persone, uomini, donne, bambini, anziani, associazioni, che si sono ritrovati sotto un'unica bandiera, quella della pace. No alla guerra in Ucraina, no alla follia di Putin. Cosa vi auspicate? Che finisca tutto. La pace, la serenità e l'unione tra i popoli. Questa è una cosa gravissima nel 2022 ancora essere, avere qualcuno che pensa a fare la guerra. Ci sono altri mezzi. Di riuscire a dare un piccolissimo contributo nel nostro piccolo, appunto, in questa pace per la fine della guerra. L'appello a partecipare alla Marcia della Pace da parte delle due amministrazioni è passato sui social e da lì si è diffuso fra la gente il ritrovo alle piscine comunali. Non avevamo mai visto una così grande partecipazione, ma soprattutto considerando che la l'abbiamo messa in piede organizzata in due giorni così in maniera spontanea, facendola circolare un po' sui social, ma niente di eccezionale. Quindi abbiamo compreso stasera una volta di più il sentimento che c'è in questo momento nel popolo italiano, che anche qui da noi in questo momento si sta esprimendo con questa grossa partecipazione a questa manifestazione. Quando si parla di pace non c'è partito, non c'è divisione, siamo tutti uniti perché quello che sta sconvolgendo l'Europa in questo momento è una verità che non ha senso incredibilmente. Come ho detto nel mio discorso, in un momento appena passato, diciamo, il periodo più critico della pandemia, con tutte le aspettative che abbiamo anche per questi fondi del PNRR, dove dovremmo pensare a ricostruire, pensare al futuro, alle scuole, allo sviluppo, alla tecnologia, a fare nuovi ospedali, a cercare di migliorare questi nostri paesi, invece dobbiamo spendere energia, tempo e preoccupazione per queste persone che stanno vivendo questo dramma. Infatti ci mobiliteremo, come stanno già facendo in molti, nella raccolta di generi alimentari, di vestiario, per poterlo mandare alle persone che stanno vivendo questa tragedia. Se non ho visto male, uno dei primi intervistati era l'ex campione di ciclismo Andrea Tafi. La crisi fra Russia e Ucraina e gli strasciche della pandemia stanno continuando a minacciare la ripresa del turismo a Montecatini. Sul piatto ci sono poche certezze e tante incognite, proprio quando il turismo internazionale pareva ridare un po' di speranza e qualche barlume di luce in fondo al famigerato tunnel, un tunnel di due anni targato pandemia. Oggi tornano le incertezze legate alla guerra in atto fra la Russia, di Putin e il popolo ucraino. La fotografia e le prospettive per il prossimo futuro nelle parole dei due rappresentanti dell'Associazione degli Albergatori, Fabio Cenni per Astotel Confesercenti e Carlo Bartolini, presidente di Federalberghi APAM. Il turismo russo era già in difficoltà rispetto al 2019 per i motivi della pandemia. Quello che abbiamo visto è un inizio di forti cancellazioni dal mercato ucraino, un altro mercato molto importante per Montecatini, per le termine di Montecatini che avevano già iniziato a prenotare. Il turismo russo e tutto l'ex blocco Unione Sovietica è molto importante per la Valdinevole e le cancellazioni sui prossimi arrivi, quelli di marzo, ci sono già state. Il timore più grosso che ho è su eventuali travel warning che l'America potrebbe emettere, perché gli americani adesso in città ci sono, sono a Firenze, sono in tutte le grandi città, mi è ripreso finalmente a viaggiare dopo due anni di stop, quindi un travel warning emesso dal Dipartimento di Stato americano potrebbe ribloccare di nuovo tutto. Obiettivamente avevano iniziato, nonostante il warming è sempre attivo per i motivi pandemici sull'Europa e sull'Italia, però avevano iniziato a riprenotare, sia in forma di gruppi sia in forma di individuali. Nei giorni scorsi APAMA aveva chiesto un incontro all'amministrazione comunale per confrontarsi sugli interventi e sulle iniziative necessarie per favorire i flussi turistici in città, temi legati alle termine, agli impianti sportivi, all'accoglienza del turismo su gomma, alla promozione alle strategie di animazione turistica. Il sindaco ci ha contattato, è disponibile un incontro, ha più incontri e aspettiamo nel giro di breve che questi avvengano. Cosa interessante, ci ha contattato anche l'opposizione, nelle a forza del Partito Democratico, ma coinvolgendo anche tutti gli altri attori politici, per un confronto anche con loro. Assolto per tutti i capi di imputazione, perché il fatto non sussiste. Con queste poche parole postate su Facebook, questa mattina l'ex sindaco di Pistò e Samuele Bertinelli ha annunciato la sentenza per una vicenda che lo ha visto coinvolto negli ultimi cinque anni. Assoluzione piena anche per l'ex assessore Tinanuti e l'ex dirigente Maria Teresa Carosella. Per l'ex primo cittadino l'accusa era quella di abuso d'ufficio e induzione in debita. La vicenda giudiziaria era iniziata nel 2016. Nel Mirino finirono le modalità di selezione dei dirigenti comunali e alcune presunte pressioni esercitate su funzionari del Comune per la concessione di spazi e contributi alle associazioni nell'organizzazione di eventi pubblici. Nessuna soluzione potrà farci dimenticare cinque anni di sofferenze e di preoccupazioni di impegno, ha detto Tinanuti, affrontati da tutti i punti di vista, ma con la certezza della trasparenza del mio operato e con la fiducia nella giustizia finale. Sono felice per tutti coloro che sono stati coinvolti e assolti in questa vicenda. Con la sentenza è stata accertata l'assoluta inesistenza di tutti gli addebiti mossi anche nei miei confronti e che hanno trovato purtroppo origine all'interno del nostro palazzo comunale. Adesso è il momento di festeggiare insieme alla famiglia e agli amici. La notizia delle assoluzioni, ha detto l'attuale primo cittadino Alessandro Tommati, riportiamo questo intervento, ne sono arrivati tanti ma era impossibile darli tutti, allora lo facciamo con il primo cittadino attuale. Non può che essere accolta come una bella notizia, essere sindaco o assessore comprende molti onori e molti oneri, ma non può comprendere la paura di finire condannati per aver svolto il proprio ruolo. Con Samuane Bertinelli siamo stati avversari politici, ma non ho mai avuto dubbi sulla sua serietà e onestà. Un po' di numeri che riguardano la pandemia, oggi sono quasi 3 mila i nuovi positivi, quasi 2 mila in più rispetto a ieri, 22 purtroppo ai decessi. In Toscana i ricoveri calano di 10 unità, i malattie in terapia intensiva invece aumentano di 3. Il tasso dei positivi è sceso all'8,7%, in provincia di Pistoria 203 nuovi contagiati, ci sono ancora due decessi purtroppo. Per le autorità sanitarie locali oggi, i numeri che vi abbiamo dato riguardano ieri ovviamente, oggi invece si parla di un altro decesso purtroppo in provincia di Pistoria, 29 persone in isolamento da Covid, 2 in terapia intensiva, 1 in subintensiva, 1 in pediatria, 1 in ostetricia. Facendo dei viti scongiuri, perché visto come sta andando tutta la situazione mondiale a livello sanitario e anche ora di altro specie purtroppo, dovrebbe tornare la giosta dell'orso il 25 luglio. I prossimi giorni ci stanno approfondimenti con l'amministrazione per quanto riguarda la fattibilità o no, ma insomma tutto sta andando per il verso che la giostra verrà fatta. L'annuncio è stato dato a margine della presentazione a Palazzo di Gianno del Carnevale 2022. Il Comitato Cittadino della Giostra dell'Orso è al lavoro al fianco del Comune per rivitalizzare il mondo attorno alla giostra che tornerà dopo lo stop dovuto alla pandemia. Un'edizione, quella del prossimo 25 luglio, che sarà nel segno della tradizione, ha detto il Presidente Francesco Becagli con qualche cambiamento per quanto riguarda il regolamento. Si torna alla vecchia giostra con le stesse regole di sempre, cambierà comunque il valore in campo, cioè dal cavallo si passa al fantino, quindi la capacità del fantino avrà un tipo di valore in più, quindi si andrà a un doppio colpo. Il regolamento sta a un momento di perfezionamento, quindi lo do per ufficioso, non per ufficiale, ma insomma si deve riportare una giosta che abbia una sua attrazione equestre e di gioco. In questi giorni si saprà di più. C'è un'allarme riguardo al futuro della scuola di Catena di Agliana, chiusa da più di un anno e rischia di non riaprire. La scuola di Catena di Agliana in via del Casello, chiusa ormai da più di un anno, rischia di non riaprire più. L'amministrazione comunale di Agliana aveva in programma l'adeguamento antisismico con 400 mila euro già previsti nel piano delle opere pubbliche. Nei mesi successivi la Giunta annunciò la decisione di costruire una nuova scuola in via a Malmort. I gruppi di opposizione chiedono di tornare a discutere del futuro della ex scuola, ritenendo che debba esserne mantenuta la destinazione pubblica. Come gruppi consigliari Partito Democratico e insieme a Agliana in Comune abbiamo presentato una mozione per il recupero della scuola della Catena. Crediamo che sia molto importante mantenere la destinazione pubblica di quello spazio, perché dopo la chiusura di un anno fa a causa di problemi strutturali non si sono avute notizie e aggiornamenti. Le dichiarazioni del Sindaco di allora appaventavano anche la possibilità, oltre all'individuazione di una nuova zona per la scuola in via a Malmort, anche la possibilità di cedere quella struttura per la realizzazione di edilizia privata. Noi crediamo al di là poi dell'utilità che si potrà trovare in quello spazio, che sia la casa delle associazioni, che sia nuovamente una scuola, che sia spazio per uffici pubblici, che nella frazione della Catena debba rimanere un presidio pubblico fondamentale, perché quella zona è altamente popolata, ha pochi spazi pubblici e quindi questo è un principio fondamentale, un impegno per tutte le forze politiche in Consiglio Comunale. Chiediamo all'amministrazione effettivamente di darci una risposta chiara su qual è l'utilizzo che intende fare dell'ex scuola della Catena. Questa amministrazione come primo atto ha subito incentivato una maggiore urbanizzazione del nostro territorio e noi vogliamo impedire che la scuola, l'ex scuola della Catena, è trasformata in un'opera di edilizia privata rendendo un territorio ancora più difficile da vivere, perché è densamente abitato e urbanizzato. Per questo, visto che l'amministrazione pone sempre sui temi principali la sicurezza del territorio, noi crediamo che la sicurezza del territorio va fatta vivendo i nostri spazi, quindi è fondamentale lasciare questo presidio pubblico alla Catena affinché questo spazio possa essere messo a disposizione delle associazioni, del territorio e di tutta la collettività, perché Agnana necessita di questi spazi e Agnana è fondamentale che questi spazi veramente possano ritornare ad essere presenti come nel passato. Hanno costruito il loro nido sulla cima di un pilone dell'energia elettrica, si tratta di una coppia di cicogne che ormai da 4 anni ha scelto Cintolese sul territorio di Monsumano per realizzare la propria casa. Ora è distribuzione, il gruppo Enel che gestisce la rete di distribuzione dell'energia elettrica con la consulenza del centro di ricerca del padullo di Fucecchio è andata a sostituire la piattaforma che accoglieva il nido con una più adeguata, in modo da ospitare le cicogne nell'imidente stagione primaverile. La cicogna bianca nidifica in Toscana dal 2005, dopo alcuni secoli di assenza, attualmente sono solo 10 i siti di nidificazione in tutta la regione, la coppia si è anche riprodotta come vedete con successo. Parliamo di Agrinotizie che va in onda questa sera, il notiziario della Confederazione Italiana Agricoltori Toscana Centro, questa volta ci porta alla scoperta della risorsa idrica e della difesa delle eccellenze del nostro territorio. Una breve anticipazione perché poi il programma va in onda questa sera alle 21 e domani alle 14 e 40. C'è però un attacco dell'Europa alle produzioni di grande qualità, primo fra tutti il vino, voi cosa pensate di fare? Siamo estremamente preoccupati, abbiamo visto questa cosa dei semafori dove tutti i nostri prodotti tradizionali dal parmigiano venivano quasi bollati come non salutari, siamo preoccupati, ci stiamo muovendo perché non possiamo assolutamente perdere queste eccellenze, il nome di queste eccellenze soprattutto che fa grande il nostro paese, non solo in Europa ma anche nel mondo. A livello territoriale la questione delle questioni, partendo dalle attività produttive, mercato dei fiori di pesce, a Mephit, 630 persone interessate. Cosa pensate di attivare perché a giugno questa struttura essenziale non chiuda? Tutto il possibile perché come Cia abbiamo tantissime aziende là sotto, l'ho ricordato in altre occasioni, di 90 delegati che abbiamo eletto nell'assemblea delle tre province, 20 vengono da pesce, quindi questo è relativo al numero di soci che abbiamo in quei luoghi, abbiamo veramente la maggioranza delle aziende presenti in quel territorio, per noi il mercato è un luogo essenziale. Grazie per averci seguito. Grazie per aver guardato il nostro canale.